Ciao Patrizia, grazie di essere stata qui con noi. Grazie a voi per avermi fatto partecipare, bellissimo programma, sono stata felice di essermi divertita e ci rivediamo la prossima volta. Sicuro. Io ti ho amato tantissimo perché sei, io non voglio chiederti quanti anni hai, ma io adoro la tua energia. 55 e ti ringrazio, sono mamma, sono nonna e sei soprattutto, credo, una persona libera, questo mi piace tantissimo di te. Certo, certo, amo cantare, amo sentire anche, ascolto molto, comunque è bellissima questa serata, veramente, ragazzi partecipate tutti. Io spero che chiunque partecipi veramente decida di partecipare con lo spirito di Patrizia perché è così che bisogna affrontare questa esperienza. non arrivare qua con lo spirito di vincere, è assurdo, l'importante è divertirsi ragazzi come mi sono divertita io. Grazie. E noi ci siamo divertiti con te, salutiamo tutti. Ciao.